White, Servi e Silins lo stesso Servi riceve, fa saltare lo bello Hunter e va a segnare i primi due punti della sua partita passo contro Silins, prova ad attaccare si gira molto bene sul perno, poi sbaglia e questa volta però Hunter va a schiacciare questa è una gran partita, ancora lì a reggere l'urto Senesa, ancora Marquis in sotto per Hunter a schiacciare Filoi taglia forte White, non riceve, riceve adesso il lob, va su, prende il tiro dalla media, segna White allo scadere, finisce qua il terzo quarto di gara Jenning, alza per Hunter, grande schiacciato il motello Hunter che è andato in cielo Grazie per la visione!